Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha chiesto un intervento dello Stato dopo aver appreso della mancanza delle scorte di mitomicina, un farmaco utilizzato per la cura del tumore alla vescica necessario alle cure di 25 pazienti oncologici negli ospedali di Careggia, Firenze e di Pisa. Il problema, detto Rossi, è noto da gennaio e la Toscana, in assenza di provvedimenti nazionali, ha chiesto all'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'autorizzazione ad acquistare all'estero i prodotti, ma il via libera è arrivato solo il primo luglio e restano incerti i tempi di reperimento. Noi abbiamo dato disposizione perché si cerchi il farmaco all'estero, dovunque, in ogni paese europeo, e lo si porti breve in mano ai cittadini, alle aziende ospedaliere, per non interrompere queste cure, perché interrompere la cura mette a pregiudizio la salute dei cittadini, non ce lo possiamo permettere, ma c'è bisogno di un provvedimento di carattere nazionale. La vicenda è nota fin da gennaio, c'è un elenco che l'AIFA ha fatto di farmaci che potevano essere in difficoltà di reperimento. Rossi ha anche annunciato che la Regione intende verificare tramite l'avvocatura regionale se nella vicenda ci siano aspetti di rilevanza penale. Già il Piemonte ha fatto un'esposta alla Procura della Repubblica per un caso analogo, adesso lo faremo anche noi, vedremo se c'è la possibilità di individuare in modo preciso qualcuno che è identificabile, toccherà alla Procura della Repubblica, verificare se ci sono aspetti di rilevanza penale, come io credo quando si mette a rischio la salute dei cittadini per ragioni di carattere speculativo.